ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi un nuovo video questo qui è un refill fatto di una mia amica che era venuta già due settimane fa e ritornata perché aveva una bella ricrescita ha una ricrescita molto veloce beata lei scusate e è una copertura nell'anulare come avete visto c'è una tip che ho fatto la ricostruzione solo su quel dito lì se non è ronte la destra non mi ricordo se ho messo qualche tip o no adesso non mi ricordo comunque ok ha scelto questo bellissimo colore marrone che si chiama chocolate sempre di passione unghie è molto bello perché non è quei marroni sai bruttini eccetera è carino perché fate anche il nome cioccolate assumia molto la cioccolata e poi nel medio e nel mignolo e andrò ad applicare questo gel brillantinato glitterato come vogliamo chiamare che c'è anche delle delle paiettuzze molto molto carino e e c'ha di micro brillantini anche rossi all'interno oltre che marroni e come abbiamo come abbinamento come abbiamo deciso molto molto carino mi piace veramente tanto come nell'arte si può chiamare nell'arte insomma sull'abbinamento di colori ecco però comunque sempre nell'arte fatta insomma e chocolate questo qui che sto applicando adesso sempre due passate e glitter uguale infine ultra gloss di passione unghie lucido e l'olio e cuticole se il video vi piacerà metterete un palice in su se volete sotto i video mi commentate e niente spero che vi piaccia io quindi vi lascio la visione del video e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao